Quadrado si attarda, allora arriva ad aiutare Chedira. Chedira cerca Alex e Sandro, un due su due lui, salta più in alto di tutti Alex Sandro. Evra, attenzione, Zazza, Zazza, se la porta sul mancino, Zazza guarda la porta, Zazza, gol, 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 sì, gol, sì, Simone, sì, Simone, sì, Simone, Simone, Zazza, facci un gol, Simone, Zazza, 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 gol, Simone, Zazza, l'attaccante con la media gol più bella del mondo. Il sinistro violento alle spalle di Reina, 1-0, a due dalla fine, a due dalla fine, Zazza, Zazza, gol, explode lo stadium.